Grazie a tutti. La definizione del tracciato di questa gara che vivremo alla fine di luglio. Innanzitutto spiegaci di che cosa si tratta perché è un evento veramente inedito per la nostra zona. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Orobie Ultra Trail, una nuova gara, anche se poi per quello che riguarda un po' l'avventura di questa disciplina a volte non sono solo gare. È una nuova formula che grazie a Redale Revolution e Spia Game mi hanno un po' coinvolto per dare questi tre giorni di festa sulle nostre montagne. Si tratta di una corsa in montagna di 140 chilometri che parte praticamente da Clusone, attraversa le nostre Orobie e ci sarà l'arrivo in quel che è Città Alta, il centro storico è Città Alta. A questa sarà affiancata anche una gara di 70 chilometri, chiamiamola più breve, noi ormai specialisti di questa attività la chiamiamo breve, però sono sempre 70 chilometri, che invece partirà da Carona e terminerà anche essa a Città Alta aggiungendosi al percorso della 140 chilometri. Il mondo ultratrail è un po' una nuova disciplina, un po' sconosciuta diciamo nella nostra località, nei nostri territori, ma che sia in Francia e altre nazioni, soprattutto un po' arrivata dall'America, nei ultimi anni ha preso molto piede. Io l'ho scoperta nel 2010 così per caso per una gara famosa all'epoca che si chiama Ultratrail de Mont Blanc, che è una gara di 160 chilometri intorno praticamente al Monte Bianco. Da lì è nata questa passione, dopo 15 anni che pratico corse in montagna, anche su strada, però dal 2010 mi sono un po' dedicato, concentrato su questa disciplina, che è sempre più frequentata, da numeri che iniziano ad essere molto importanti. Si parla sempre di 2-3 mila partecipanti a questi eventi, di più giorni ormai chiamiamo. Con la tua esperienza e con la conoscenza anche che hai del territorio dell'Europa e appunto hai contribuito a costruire l'itinerario di questa gara. Sì esatto, sono stato contattato dai miei amici degli organizzatori Spia Game, grazie alla mia un po' esperienza in questi anni, per avere le indicazioni necessarie per la tracciatura del percorso, per riuscire a estrapolare questo percorso sulle nostre montagne, che dia le caratteristiche giuste per quanto riguarda il trail. Come dicevo prima, noi siamo un po' abituati alle gare nelle nostre vallate, così io le chiamo toccata e fuga, cioè di corsa in salita, di corsa in discesa, tutto si risolve in qualche ora e è molto più frenetico. Invece il trail solitamente sono percorsi, inizialmente non proprio così tecnici come in alcune altre gare e poi bisogna dare la possibilità alla maggior parte degli iscritti di terminare, chiamiamolo questo viaggio, perché iniziamo a parlare di 140 chilometri, io personalmente comincio a chiamarli anche quasi viaggi, non sono più gare, per la maggior parte diventano proprio un viaggio. Quindi sono stato contattato da loro per avere le giuste indicazioni, Siamo un bellissimo tracciato ovviamente sulle nostre montagne con un arrivo altrettanto spettacolare. Sì, la nostra particolarità del nostro territorio è che abbiamo la possibilità di partire dalle montagne e arrivare in una città medioevale come l'arrivo in centro a città alta, penso che sia un po' emozionante, da Bergamasco sicuramente, ma credo che anche i stranieri, perché ci saranno anche parecchi stranieri, dia quel tocco in più passando dalle montagne a una città medioevale. Banale dirlo, serve una forte preparazione. Sì, naturalmente queste gare non si improvvisa nulla, i primi la affronteranno in circa 20 ore, il tempo massimo sarà 48 ore, però parliamo anche di affrontare tratti con passaggi in zona Rifugio Brunone, Rifugio Calvi, Rifugio Gemelli. Quindi può essere che, anzi, sicuramente gli ultimi passeranno più di una notte sui sentieri, quindi ci vuole anche una certa preparazione, tant'è che di regolamento proprio anche internazionale, e gare come queste hanno bisogno di un certo curriculum per parteciparli. Comunque abbiamo già notevoli iscritti anche da extraeuropei, da Nuova Zelanda, Australia, eccetera, Canada. E a questo abbiamo fiancato, per dare possibilità anche a chi non ha questi requisiti, una gara di 70 chilometri che parte da Carona, e si aggiunge, si unisce alla gara 140, praticamente Rifugio Gemelli, da qui si prosegue. Cioè i partecipanti, voi che correrete come dei matti, no, ma i partecipanti che già, insomma, anche loro si daranno molto da fare, avranno anche la possibilità proprio di fermarsi, di dormire, ci saranno proprio... Esatto, la particolarità del trail running è proprio che si dà la possibilità, essendo gare lunghe, di avere, si chiamano basi vita, in questo caso ne allestiremo due, una a Val Bondione al cinquantesimo chilometro e una a Zambla a circa 100 chilometri, dove gli atleti avranno la possibilità di fermarsi, poter dormire per qualche ora, due, tre ore, naturalmente il tempo non si ferma, il cronometro va avanti, dove depositeranno il giorno prima della gara le loro borse, con i vari ricambi, dall'abbigliamento alle scarpe, quello che è necessario per affrontare queste avventure, e poi poter così ripartire, diciamo, freschi e riposati, per continuare questo viaggio, questa avventura verso il traguardo. E ovviamente questo necessita di una grande organizzazione, c'è un servizio sanitario, c'è un servizio di assistenza e ci saranno anche tanti volontari. Esatto, questa diciamo che è la parte un pochino più seria, perché gare come queste, per fare un esempio, l'Utratrail de Mont Blanc, si parla sempre di 1.500-2.000 volontari, cioè su una partenza di 4.000 persone abbiamo quasi 2.000 volontari, che in quei tre giorni per loro è una festa, una festa del loro territorio, una festa del Monte Bianco, si dice, perché è vedere 4.000 persone che girano intorno al Monte Bianco attraversando tre nazioni, quindi è... e vorremmo che anche qui nel nostro territorio bergamasco la popolazione prendesse un po' questo evento, come una festa, una festa del montagno, una festa del nostro territorio. Abbiamo bisogno di tanti volontari, tant'è che sul sito internet di Urobia Ultratrail abbiamo messo una sezione, una pagina, dove uno può iscriversi come volontario, con le varie caratteristiche, e con il giusto riconoscimento, oltre che vivere un po' questa avventura di questi atleti nel loro viaggio, anche a livello territoriale, un po' far conoscere soprattutto, non ai locali, ma soprattutto alle persone che vengono da lontano, il nostro territorio, che può meritare sicuramente anche un futuro, o quello che vogliamo, un futuro inserimento nel calendario mondiale di questa disciplina. Con la tua esperienza tu hai fatto molte gare importanti, un consiglio? Sì, il consiglio è sempre quello di assapere i propri limiti, la propria preparazione. Queste gare necessitano molte ore di preparazione e di allenamento, soprattutto anche in notturna. correre di notte, dopo anche qualche ora, tante ore di gara già sulle gambe, diventa tutto molto più difficile, e quindi bisogna anche un po' essere abituarsi, essere pronti ad affrontare le montagne di notte. Ci sono i materiali obbligatori che abbiamo messo nel regolamento, e quindi è tutto un po', io la chiamo la notte magica in queste gare, perché sei tu e la natura, quindi ci vuole molta preparazione in queste gare. E la farai anche tu? Naturalmente, io ho detto sicuramente non posso mancare a questo evento nel mio territorio, nella mia valle bergamasca, e sì, la sto preparando già da tempo, quindi ho già iniziato la stagione, ho anticipato un po' la stagione quest'anno, con delle gare, anche nel campionato mondiale, proprio per avvicinarmi piano piano a questo evento, anche perché conoscendo il percorso è molto impegnativa, nonostante... Non va sottovalutata. nemmeno la 70 chilometri, anche perché la 70 chilometri è aperta a tutti, quindi che abbiano naturalmente la visita medica, appartengano ad una società sportiva, però anche la 70 chilometri ha il suo da fare, sarà impegnativa anche quella, quindi spero che sia una grande festa e soprattutto ci sia tanto pubblico a darci sostegno, noi atleti, a dare una mano agli organizzatori, anche solo al ristoro, anche solo sui sentieri a incitare gli atleti. In bocca al lupo quindi, Marco, in bocca al lupo ai partecipanti, grazie per averci seguito, alla prossima. Vedete. Grazie. 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 Grazie.